Figlio, ci siamo, Piero, andiamo allora. Partiti. Allo steccato è Nauman Green, all'esterno Margutta Studios, Nicky Sports e Cloud. Dopo 200 metri di corsa passa Nicky Sports davanti a Cloud, Nauman Green e Margutta Studios. E' in vantaggio lungo la corda Nicky Sports davanti a Cloud, Nauman Green e Margutta Studios. E' sempre in vantaggio Nicky Sports lungo la corda davanti a Cloud, Nauman Green e Margutta Studios. All'interno è Nicky Sports, all'esterno Cloud, a centropista Nauman Green e con più all'esterno Margutta Studios. All'interno è Nicky Sports, a Cloud davanti a Nicky Sports, Nauman Green e Margutta Studios. E' in vantaggio Cloud davanti a Nicky Sports e Margutta Studios. Cloud senza alcun problema, Cristian Nemuro, Riccardi, la nuova sbarra, favoritissimo, caldo, caldo, caldo. Inaugura la serie dei vincitori all'ippodromo delle Capanelle, a cose fatte, 1,31, anche una buona quota. Rivediamo le immagini del replay. Gran corsa e prenotazione per Nicky Sports, che tiene bordone fino alla fine. Esce molto, molto a testa alta da questa prova. Allo studio. Grazie. 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 Grazie.